Buongiorno e benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. In questa lezione traduciamo insieme 40 frasi che ho preparato per voi dall'italiano al tedesco. E un'altra cosa, volevo ricordarvi che ho fatto un nuovo canale dove spiego tutto in tedesco. Insegno tedesco usando solo il tedesco. Tedesco facile per principianti e penso che sia utile per tutti voi che avete già cominciato ad imparare il tedesco. Ecco, è utile ascoltare solo il tedesco, senza traduzioni. Il link si trova sotto nella descrizione e non vi preoccupate se oggi non capite tutto perché domani capirete di più. La frase numero uno. Perché vai in treno? Warum? Vai, ma qui abbiamo N. Dunque il verbo è prendere. Perché prendi il treno. Warum? Warum nimmst du? Perché cosa? Il treno è maschile, accusativo di un zug. Warum nimmst du di un zug? Perché vai in treno sarebbe warum fai tu? Parla. Parla. Warum fai tu? Mi dim zug. Mit plus dativo, eme, mit dem zug. E, cosa prendi, va snimst du, a cosa ti vu den zug. Ok. Warum nimmst du den zug? Warum fai tu mi dim zug? Il treno ferma anche a Berlino? E' una domanda. Dunque cominciamo con il verbo. Fermare. Halten. La terza persona singolare. Halten. Il soggetto è il treno. Der zug. Anche. Auch. A Berlino. In Berlin. Halten. Dieser Zug auch in Berlin? Wo halten. Dieser Zug. Ok. Cosa fai domani? Domani facciamo una gita. Ok. Cosa fai domani? Cosa? Was? Fai? Tu. Seconda persona singolare. Machst du domani morgen? Was machst du morgen? Was machst du morgen? Domani facciamo una gita. Fare una gita. Einen Ausflug machen. Allora, vedremo se domani. Ok. Cominciamo con morgen. Il verbo machen. Il soggetto. Via. Cosa. Accusativo. Maschile. Der Ausflug. Einen Ausflug. Dunque con N. Morgen machen wir einen Ausflug. La mattina e fredda. La mattina der morgen. Der morgen. E. Ist fredda. Kalt. La mattina der morgen. Ist kalt. Non lavoro. Dopodomani voglio riposarmi. Allora. Io. Ich. Il verbo lavorare. Prima persona singolare. Ich arbeite. Domani. Nicht. Qui. Domani. Ah. Dopodomani. Übermorgen. Ich arbeite. Übermorgen nicht. Ich arbeite nicht übermorgen. Virgola. Voglio. Ich will. Riposarmi. Dunque con N. Verbo reflexivo. Sich ausruhen. Ich will mich ausruhen. Per esempio. Lui. 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 Non. Lui. Lui. Vuole riposarsi. Er. Arbeitet. Nicht. Übermorgen. Er. Sich. Ausruhen. A un libro sulla storia di Berlino. A. Le. Per cortesia. Dunque interesse. Cotezza persona. Plurale. Avere. Haben sie. Ein Buch. So. Über. Die Geschichte. Von Berlin. Haben sie. Ein Buch. Die Geschichte. Von Berlin. Di. Cosa. Parli. Di. Che. Cosa. Dunque. Cosa. E. Was. Ma. Quando c'è. Una preposizione. Per esempio. Di. Che. Cosa. Si. Usa. Wo. Sempre. Wo. Con. La. Preposizione. Qui. La preposizione. Über. Dunque. Ci serve anche questo. R. Vorüber. Sprichst du. Di. Che cosa. Parli. Vorüber. Sprichst du. E. Adesso. Abbiamo solo. Cosa. Vas. Cosa. Fai. Stasera. Vas magst du hoite abend? Vas magst du hoite abend? Stasera. Vado al cinema? Hoite abend. Vado. Geh. Wohin? Accusativo neutro in das kino. In skino. Hoite abend ge ich in skino. Lei non ha niente da fare. Oggi pomeriggio. Lei. Si. Si. Aha. Ok. Cominciamo con. Oggi pomeriggio. Hoite nachmittag. Edesso il verbo. Hat. Lei. Si. Niente. Nichts. Da fare. Zu plus infinito. Zu tun. Hoite nachmittag. Hat. Si. Nichts. Zu tun. Da dove vieni? Da dove? E sempre con. Woher? Com zoom. Woher com zoom? Quando vieni domani? Vengo alle se. Quando? Wann? Vieni? Comst. Domani? Morgen. Wann kommst du morgen? Vengo alle se. Ich komme um 6 Uhr. Ich komme um 6 Uhr. Wann kommst du morgen? Ich komme um 6 Uhr. Ok. Noi siamo arrivati ieri. Noi. Via. Siamo. Il verbo ziliare. Sein. Wir sind. Ieri. Gestern. Arrivati. Angekommen. Wir sind. Gestern. Angekommen. Dunque il verbo principale è sempre alla fine delle frasi. Non possiamo dire wir sind. Angekommen. Gestern. Lui è arrivato tardi alla stazione. Di nuovo il perfetto con arrivare. Dunque il verbo ziliare è sein. Lui è. Lui è. Er ist. Tardi. Spät. Alla stazione. Am Bahnhof. Arrivato. Angekommen. Per favore parla più lentamente. Penso. Sprechen Sie bitte langsam. Sprechen Sie bitte langsam. Diventa fredo. Diventare il verbo diventare. In tedesco il verbo verden. La terza persona singolare è un verbo irregolare. Es wird. Es wird. Langsam kalt. Es wird winter. Es wird herbst. Dunque diventa lentamente fredo. Sì. Abbiamo perso la frase. E sta arrivando, come si dice, herbst. Cos'è herbst? Frühling. Primavera. Somma. Estate. Inverno. Winter. E herbst. L'ottuno. Ottuno. Es wird langsam kalt. Es wird herbst. Non ha ascoltato la musica. Ha dormito. Sie hat geschlafen, ok? Und sie hat keine Musik gehört. Sie hat geschlafen. Sie hat keine Musik gehört. Sie hat geschlafen. Mi dispiace sentirlo. Es tut mir leid, das zu hören. Es tut mir leid, das zu hören. Es tut mir leid, das zu hören. Welche Musik? Che tipo di musica? La musica era alta? Una domanda. Dunque cominciamo con il verbo. Il verbo sein. Terza persona singolare ist. E anche il preteritum perché era Ist di music laut Sarebbe il presente Va di music laut il preteritum Va di music laut Non è facile prenotare un appuntamento da questo dottore Non è facile Es ist nicht einfach oder leicht E dopo es ist nicht leicht Dopo es ist plus un aggettivo Possiamo usare dopo zu plus infinito Dunque, come anche qui Non è facile prenotare l'infinito Ma in tedesco questo sarebbe alla fine Ma non è prenotare qui Ebbe come Ottenere un appuntamento Das ist ein nentermin E ci serve bei Ok Ho fatto confusione Es ist nicht leicht Non è facile Bei diesem arzt Bei plus dativo Maschile M Bei diesem arzt Da questo dottore Un appuntamento Un appuntamento Cosa Accusativo Maschile Einen termin Zubekommen Ma possiamo anche usare Prenotare La valigia è molto leggera Ogni giorno Ogni giorno imparo una nuova lezione Ogni giorno È difficile Dice lezione Ist schwer Dice lezione Ist schwer Che incontriamo nella zona pedonale Wir treffen uns Ci incontriamo Um 15 Uhr E ci incontriamo alle 3 Um 15 Uhr In der Fußgängerzone Nella zona pedonale In der Fußgängerzone Ma anche um 15 Uhr Alle 3 Purtroppo Non ho una macchina Purtroppo Leider Ok Ich habe Leider E adesso La negazione Di un nome Auto Si nega con Kein Il accusativo Neutro Ein Auto Kein Auto Ich habe Leider Kein Auto E anche Leider Leider Ihre Fragen Nicht verstanden Ich habe Leider Kein Auto Questo Era Per lui Abbastanza Difficile Questo era Das war Per lui Ok Prima Abbastanza Difficile Per lui Für plus Accusativo Il pronome Personale Maschile In accusativo In Das war Zimlich Schwer Für In Hai già Fatte I Compiti Per Casa Hai già Fatte I Compiti Hast du Deine Hausaugaben Für Die Schule Schon Gemacht Ok Hausaugaben Sono I Compiti Dobbiamo Dire Für Die Schule E Non Dobbiamo Dire Per Casa Hai Già Fatte I Compiti Hast du Deine Hausaugaben Hast du Schon Deine Hausaugaben Già Schon Gemacht L'insegnante Ha Dato Molti Compiti Di Lehrerin Hat Heute Viel E' stato molto gentile da parte sua averci portati all'aeroporto. E' stato molto gentile, da parte sua, di lei per cortesia, e' stato molto gentile da parte sua, per la campagna, e' stato molto bello di te. E' stato molto bello con una faccia, di lei per cortesia, di cui siete con la linea di lavoro? Sind sie mit ihrer Arbeit zufrieden, il dativo femenile, mit ihrer Arbeit? Tu sei soddisfatto della tua vita, adesso bist du mit deinem Leben zufrieden, mit ihrer, il dativo maschile, ihrem, deinem, il dativo neutro, das Leben, bist du mit deinem Leben zufrieden. Il nostro ufficio, qui uso di sabato, unser Büro bleibt Samstag, qui uso, geschlossen. Unser Büro bleibt Samstag geschlossen, Samstags. Noi, siamo già chiusi, wir sind, oder wir haben schon geschlossen, wir haben schon geschlossen. Wole pagare il conto domani, si meno. Wollen sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Ja, danke, ich werde die Rechnung morgen bezahlen. Ok, das ist alles, tschüss.